Diletta, chi arriva in questi giorni? Babbo Natale Sei sicura? Babbo Natale E cosa porta Babbo Natale? Cosa porta? Pentole Ma dai! Pentole E regali Porta i regali, vero? E regali Sei sicura che porti i regali? E regali E cosa abbiamo fatto in classe? Albero Albero L'albero E cosa vuoi dire a tutti quanti adesso? Buon Natale a tutti Provi